Il campionato giovanissimi, la Ciledrense incontra il Cacciableggio, una delle ultime partite di questo campionato, la Ledrense è in testa alla classifica del suo girone, incontra in campo le due squadre agli ordini del signor Franceschetti di Rivarco, vediamo la formazione della Ledrense con Gili e poi Rosa, Ribaga, Filippi, Dubini, Santi, Boccagni, fischio d'inizio della partita, Filippi, Gromapalla, Dubini, parte in mezzo per Cristian, Ribaga, vediamo questo pallone in una pozzangra, Ribaga, 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 e gol, il gol di Ribaga al primo minuto di gioco, Cristian Ribaga mette il pallone nella porta, subito del Cacciableggio, la Ledrense, Lorenze con Filippi, Gili, Gili, tiro di Gili, e pallone che va in angolo, Boccagni di Alice, Ferrari, butta, centrale, arriva Dubini, Dubini, Giorgio, si ferma, si gira e poi tira, pallone che si ora attraversa, va sul fondo, Alice, buona per Dubini, passa la palla, Dubini, Giorgio, si imbola verso il portiere questa volta, Dubini ancora, tiro e la rete di Dubini, Giorgio, eccolo qua, scarpetta rossa, raddoppia la Ledrense, ottavo minuto e 40 secondi, sulla riga, buona, sulla riga da metà campo parte Cristian, Ribaga, si ferma un pallone, eh, per fischiare l'arbitro questa punizione a due, e la rete, la rete di Gili, Marco, 3 a 0, dodicesimo e 30 secondi, stiamo qua Gili, Marco, una volta li va via, vediamo se tira in porta, riesce a mettere il pallone largo, poi c'è questo, palo, e la butta dentro, Rosa è pezza, 1 a 3 su questo cross, che è andato a colpire il palo alla sinistra di Rosa, e poi il pallone è andato a incocciare proprio sul portiere, eccolo qua, non ci sono problemi, Santi, Gili, e riesce il portiere, ribattere, il tiro di Ribaga, la Ledrense adesso vediamo, dentro la palla, buono, e se il portiere, in qualche maniera disturba, anche che manca Casolla, buona, buona, questa volta vediamo Giorgio Dubini cosa fa, si presenta davanti al portiere, li tira addosso, alle gambe, arriva Bailoni, vedo qua, Bailoni, buona, buona, e se il portiere è in vantaggio, bravo Rosa, bravo Casari Noemi, la sua grinta, buona, buona, buona Dubini, e la rete, la rete ancora di Dubini, Giorgio, 28esimo, 4 a 1 risultato, paglia il passaggio verso Cristian Ribaga, Ferrari, buona, buonissima questa palla, ancora di Dubini, se la porta troppo avanti l'ultimo passaggio, quella qua, c'è male un dito, c'è male un dito, vedete vedere il dito lì, ecco, vedete, Cibola, e la parata di Lorenzo Rosa, inizia il secondo tempo, tiro, di Ferrari, pallone fuori, Ferrari, Lorenzo, Massanti, Dubini, Dubini, questa volta non può fallire, Dubini, Giorgio, troppo bella questa, Ferrari, 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 Lorenzo, 5 a 1 per la Ledrense, è lì, per un pelo, segnava, ribaga Cristian, è entrato, eccolo qua, è fratello di quella famosa freccia spuntata della Ledrense, Ferrari, 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 e la palla del 7, Ferrari, Lorenzo, bellissimo, tiro al volo all'incrocio dei pali, Filippi, crossa per Dubini, stoppato leggermente lungo, Dubini ancora di sinistro, e questa volta nulla da fare per il povero portiere, 3 le reti di Dubini, 7 per la Ledrense, eccolo qua Dubini, Giorgio, Parti Dubini, tiro, e l'ottava rete, la quarta di Dubini, Giorgio, Gili, Gili, bella, bella, si, Niccolò, che azione, mette in porta, poi Cristian Ribaga, ma l'azione prepotente di Gili Niccolò, Gili Marco, Cristian Ribaga, Cristian Ribaga, entra ugualmente il pallone, e segna la decima rete, la Ledrense con Ribaga, Cristian, Dubini, Passa la palla, e la butta dentro finalmente, Filippi, William, 11, gol, Dubini, Dubini, Giorgio, Dubini sulla davanti al portiere, scarta il portiere, l'arbitro da rigore, l'arbitro da rigore, batte Casari, Noemi, per la Ledrense, questo rigore, Casari, Noemi, fischia l'arbitro, parte il rigore, e lì pronta, eeeh, nulla da fare per Casari, nemmeno sulla ribattuta, arriva Boccagni, Alice, Cristian Ribaga, scaraventa avanti per William, ancora Filippi, 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 William, 12 gol della Ledrense, due i suoi, si tiene il quesimo, fischierà la fine l'arbitro, ed eccolo, il fischio che arriva, puntuale, 12 a 1, i gol in favore della Ledrense, giovanissimi, questa partita, l'unica che ho ripreso, quest'anno, bravi tutti i giocatori, adesso andiamo a vedere quelli grandi,